ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale eccoci qui oggi con un nuovo titolo fresco fresco di giornata quest'oggi ragazzi andremo a provare questo titolo di peschereccio in tal caso peschereccio di granchi insomma ragazzi possiamo fare sia il tutorial che anche una carriera e possiamo tra l'altro anche utilizzare i vari strumenti che abbiamo sulla nostra nave per poter andare a pesca di granchi ma andiamo con una nuova partita facciamo un tutorial e iniziamo questo primo appuntamento di questo nuovo titolo ed eccoci qua benvenuto nel tutorial segui i passaggi angolo in alto a sinistra leggi le informazioni di avvio lezione per completare con successo la tua prima missione perfetto avete bisogno di alcuni elementi per iniziare la pesca li comprate in negozio acquistare le bue le nasse e il blocco di aringe esca va bene andiamo iniziamo a prendere queste prime robe mamma mia mi accica sto sole e che cos'è ecco qui dunque abbiamo bisogno di acquistare ben tre bue ed eccole qui costano 40.000 luna alla faccia e che cos'è che sono fatte duro nasse nasse questa qui è il blocco di aringe l'esca quindi me ne servirà una nasse nasse eccola qua dovrebbe essere questa qui ok perfetto premi m per aprire la mappa visualizza la mappa ottimo allora ingrediente principale di una buona pesca sta progettando evidentemente sarà tradotto male scegli punti dove sono la maggior parte dei granchi in caso di fondale granchi piace di più sabbia e fango tradotto malissimo non ci sono quasi tutti i granchi sulle rocce allora analizza i fondali marini controlla il filtro fondale dovrebbe essere questo condizione di pesca temperatura dell'acqua fattore da considerare è la temperatura dell'acqua sotto il livello del mare analizza la profondità dei fondali marini ok considera quindi trovi il posto migliore credo forse qui vuoi navigare verso questo posto aspetta però soltanto questo da scegliere analizza la profondità dei fondali marini sulla mappa considera anche fondali marini e la temperatura il posto migliore per i granchi di cattura trovi il posto migliore la corsa veloce fai clic sul luogo sulla mappa però questo qua dovrebbe essere il fondale credo che qua dovrebbe andare andare più che bene va bene accettiamo e andiamo verso questo posto vediamo innanzitutto quello che possiamo fare sempre se riusciamo quantomeno a fare una cosa abbastanza buona allora utilizza la gru per posizionare la pentola sul programma di avvio è possibile accedere alla modalità di gru utilizzando la leva sulla console o nei pressi della gru ah ok bene così ci spostiamo con spazio prendiamo questo ok credo che lo dovremmo mettere qua credo che avremmo fatto il primo va va bene apri la bua del castello ok prendi una bua trattala male mettila qui ok apri la nasa va bene attenzione alle portate in faccia apri il frigo 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 eccolo qui esca di aringa immaginare il blocco credo qui ok madonna che schifo e che sta roba prendi esca ok la posizione qui perfetto chiudi la nasa buttami il piatto di granchio ecco l'ho buttato mo che vuoi sì com'è che lo faccio buttare sempre con la gru ah no qui ok e qui deduco di sì aspetta wow oh la la allora utilizza la leva botta via il piatto di granchio ripreso nella posizione del launcher ok aspetta ribalta ok a posto possiamo saltare quattro ore quindi dobbiamo saltarle ok bene ottimo prendi il rampino dal vano porta oggetti rampino eccolo qui poi che faccio mi posiziono qui buon uomo dica entrare in modalità grappino modalità grappino ma pensa tu a ok quindi che devo fare la pentola di granchi credo che ho sbagliato completamente mira ok ho preso questo ovvero l'esca e dovremmo quantomeno rialzare la cesta e questo sì per accendere l'avvolgitore guarda qua che figata poi che faccio abbassa il gancio verricello e sollevo il gancio del verricello con la mano sguardo al gancio più è scusa buon uomo da dove di qua ah ok poi che faccio lo piazzo qui guarda qua quanti granchi che abbiamo pigliato a ok perfetto ottimo quindi che faccio lascio il gancio ok riponiamo la boa all'interno della cesta apri il piatto di granchio va bene ecco qui poi che faccio vado qui sul tavolo della selezione ed è tutto robotizzato signori tutto meccanico guarda qua che figata ok ritira indietro oppela chiudi la porta della nas e inserire modalità di ordinamento qui a la selezione dei granchi ma pensa tu controllare la maturità del granchio e il sesso del granchio quindi se io ne piglio uno aspettate perché abbiamo recuperato anche i pesci i pesci non ci servono quindi madonna che madonna che brutta sensazione l'ho ruotato e adesso credo che dovremmo vedere il sesso allora a seconda che il granchio soddisfi i criteri classificato mettendo il granchio sul tavolo spazio e trascinandolo nel mucchio corretto quindi vuol dire che è di maschio e maschio non femmina questo qua non è giù non è corretto madonna che che schifo questo qua dovrebbe essere femmina aspetta questo qui anche credo che non va bene vabbè io lo butto lì perché non è che mi viene indicato se è maschio lo metti da una parte se è femmina lo metti dall'altro oppure magari quando lo giri che lo guardi non va bene lo butti via va bene lo metti con gli altri questo purtroppo non me l'ha detto e quindi noi facciamo finta che vadano bene tanto comunque sia vabbè eh che cos'è ok questo pure va bene questo anche e questo anche ok aspetta allora getta e ok allora prendi il contenitore per granchi dal magazzino ok quindi che faccio metto questo qui che non va bene ciao ciao è stato un piacere conoscerti eh poi che faccio metto questi qua apro qui ah ok lascia chiudi ah ok perfetto abbiamo fatto una cosa tanto buona eh oltre ai granchi a volte può potremmo catturare anche dei pesci puoi immaginarli come esca ah ok perfetto oltre ai granchi raccogli i pesci dal tavolo ok quindi li possiamo anche triturare poveri pesci entra nella botanità gru ok quindi che faccio utilizzo la gru riportare la allo slot ah ok posizione il piatto nello slot cargo slot cargo qual è ma qual è questo qui posizione il piatto di granchio dal lanciatore nello slot cargo ma credo che dovrebbe essere questo qua vicino alle botole ah ok fake click per ok allora utilizzo visualizza la mappa sotto il tasto M tornado tornano ok utilizza viaggio veloce no aspetta mappa abilità del capitano imbarcazione mappa classifiche manuale equipaggio viaggio rapido eh utilizza viaggio veloce ah ok perfetto ottimo accetta beh dai devo dire che è fatto anche fin troppo bene ed eccoci qua il processing factory per vendere i granchi qual è questo qua davanti mamma mia che brutto tempaccio c'è un tempaccio brutto ma come la multa oddio granchi genere per libre per tutte le femmine granchi piccoli o morti madonna quindi andiamo a ricavare 388 dollari perché ci stanno anche da pagare le multe bene eh perfetto siamo veramente messi malissimo signori a fare sto sto lavoro eh eh sì perché come detto non ti viene spiegato altamente niente entri nel negozio e compra le competenze di sconto per tutti per futuri acquisti mani veloci futuri acquisti acquista lo sconto dove sta sto sconto però eeeh sapete che non lo so dov'è acquista sconto dovrebbe essere uno di questi due favore delle guardie aspetta però sono bloccati ma non ho capito ah questo qui dovrebbe essere allora sconto al negozio 500 ok acquista fluido idraulico un kit di riparazione e un rampino ok facciamo quest'altro tutorial allora fluido idraulico fluido idraulico allora kit di riparazione per nasse dovrebbe essere per la pentola me ne servono tre un rampino anzi tre rampini che costano lira di dio e fluido idraulico olio penetrante che è detta così acquisto un serbatoio pieno va bene facciamo questi acquisti abbiamo 97 mila dollari fate un po' conto voi salve c'è permesso scusi un serbatoio pieno guardate un po' il prezzo signore utilizzando la mappa scegli un luogo adatto per la cattura e vai lì io direi di nuovo qui signori facciamo quest'altro viaggio rapido bene bene allora vediamo un attimo che cos'è che dobbiamo fare usa quello che hai imparato a preparare il piatto di granchio di gettare in mare benissimo e scusi signora gru vengi qui mi dia il piatto qua va qua il piatto piange signori dai qua il piatto piange tacchete ora scendi da qui poi montiamoci le bue piglia la boa metti la boa ok monta l'esca l'esca com'è che era che non mi ricordo ah ok perfetto tacchete ah richiudi la leva lanciatore buttare via il piatto eccotelo qua entra nella timoniera e siediti sul sedile del capitale che figata no posso c'è per me oddio guarda qua che figata aumenta la velocità di quarta marcia oddio aspetta aspetta cambia la rotazione della nave usando A e D puoi anche ruotare sul sul posto grazie ai timoni W ed S puoi anche usare la leva nella timoniera aumenta la velocità di quarta marcia e dove si trovano le marce qua scusi R per sterzare per cambiare la marcia selezione inversa abbassando l'ingranaggio allora ora si può navigare sul mare senza alcun problema quando si vuole andare avanti e uscire dalla timoniera ah ok quindi allora vuol dire che mi ci sono avvicinato al piatto che piange è al piatto dei granchi ma penso di sì non lo so cambia la rotazione della nave la nave ok ora si può navigare sul mare senza alcun problema quando si vuole andare avanti uscire dalla timoniera utilizzare il viaggio rapido per dove ah aspetta ah ok quindi ma facciamo due cose per bo ma non lo so c'è quindi ah ok quindi vuol dire che possiamo fare ben due posti alla volta tacchede esci montiamogli le bue scusi buon uomo tengo la mia no ah ok no perfetto va bene e pensavo che l'avevo buttata a mare ma intanto no ok chiudi qua tacchede a ritacchete allora utilizzo il viaggio veloce al piatto granchio afferra la pentola utilizzando il rampino fisso il piatto all'avvolgitore ok al piatto sinistro sul mare piatto sinistro vuol dire che dovrebbe essere quello lì dovrebbe essere questo ok credo di sì però aspettate secondo me no secondo me mi ci devo mi devo avvicinare un pochettino secondo me secondo me mi ci devo avvicinare perché si trova tutta altra parte ok ecco qui che ci stiamo avvicinando pian pianino aspetta che però comunque sia deve essere là sotto non è che si dovrebbe essere vicino all'avvolgibile perché se no così altrimenti non riesco a fare niente va indietro penso che un altro pochino potrebbe andare guarda la tazza del micio quanto è carino ok basta così dammi il rampino e tacchete olè è uno recuperato olè non mi ricordo quale che era il tavolo quale cavolo era per questo i ganci no aspetta per abbassare il gancio dell'argano ok eccolo qua è giusto sì è giusto tacchete 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 e tacchete apri per estrarre aspetta perché non mi ricordo per abbassare il gancio perfetto ottimo e questo qui l'abbiamo fatto chiudi vai indietro e credo che questo qua lo possiamo anche togliere perfetto perché ci andiamo a riprendere anche l'altro tacchete chiudi qua e andiamo qua facciamo viaggio veloce e questo qua perché non lo posso andare a riprendere tempo forse forse magari ci vorrà ancora più tempo forse credo di sì non lo so riporto le bue ah cavolo è vero mannaggia devo prendere la boa eccolo qui tacchete prendere l'olio che penetra dal vano porto oggetti a che serve e in che senso mantenere le apparecchiature idrauliche in buono stato un cattivo stato minor velocità e la possibilità di guasti controlla che devo controllare scusi ah le i piatti qua ripare il launcher rimetti l'olio eh scusi com'è che faccio mi dice cose riparare il launcher ma come però com'è che te lo faccio a riparare scusi oppela mamma mia che è fatto di piombo senti qua com'è che faccio aspetta eh scusi è per riparare è per riparare però quando mi viene detto è per riparare ma com'è cavolo eh aspetta tacchete madonna ma non lo posso utilizzare no ma com'è cavolo lo faccio a riparare si senti buon uomo ho già mi fatto perdere abbastanza tempo eh rimetti via sto coso qua eh però non ho capito come cavolo è che faccio a ripararlo ah benissimo noi così ripariamo la roba spruzzando un po' di svitol qui e lì utilizza viaggio veloce al piatto granchio ah ma quello lì dovevo riparare ma che cavolo ne so madonna mi ha sto gioco non mi fa capi niente ah sentimo fammete te lo lascio qua andiamo al viaggio rapido ok do stanno do stanno stanno più in avanti dobbiamo andare più in avanti allora damose aspetta aspetta dai che ti incastri che ti incastri sempre maledetto è difficile fare il pescatore madonna tacche lascia 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 sto coso qua per favore avvicina qua e qual è che era per spostare il tavolo per usare la gru mannaggia mi dimentico sempre tacche madonna guarda qua ok piglia qua metti a posto mettere la parte posteriore piatto per l'aria di carico forse vuol dire che lo devo togliere da qua sopra secondo me sì ah ok benissimo perfetto e adesso si va alla selezione la selezione potrebbe essere un attimino un po' troppo difficile allora sempre con la stessa identica cosa come prima ma che è scisa la neve allora vediamo un po' questo qui va bene e questo qui no perché è maschio quindi da parte questo va bene questo va bene questo va bene questo credo che non va bene stavolta facciamo le cose come locatelli non va bene mamma mia fanno senso questo anche questo non va bene per niente questo sì questo no questo sì eh dai gira qua questo no cioè ma stiamo buttando una marea di granchi poveretti a mare questo no no questo qua no ok a posto dai questo sì sì questo no e dai questo sì aspetta un attimo questo no credo no sì sì anche questo ok ok questo no madonna che bestia no sì poveri granchi madonna dai è così no assolutamente dai è buon uomo ok aspetta no ok vai così gira 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 questo sì poveri no che cavolo ho fatto ne ho saltato uno maledizione perché ho sbagliato il tasto questo no questo no no cavolo uno ne ho saltato però questo sì no vabbè era era sul sul rosso no cavolo devo imparare a non toccare gli altri tasti vai qui no ok perfetto piglia la cosa quando sta questa e metti qua gettali in mare poveracci olè ciao ciao fate buon viaggio eh mi raccomando ok questi qua butta qua e apri la mappa utilizzi il viaggio rapido però io voglio chiudere qua vabbè andiamo a vedere quanti soldi abbiamo fatto andiamo a vedere forse magari soltanto uno mi darà ah no signori questa volta abbiamo proprio azzeccato abbiamo guadagnato 2495 dollari madonna ok dai ragazzi allora io faccio salva la partita e devo dire che questo titolo è veramente fenomenale certamente bisogna prima capire un attimino la selezione dei granchi tra maschio femmina piccolo grande e così via però deduco che sia veramente un ottimo titolo io vi invito gentilmente a lasciare like a commentare ad iscrivervi attivare la campanellina condividere il video e noi ci si becca in un prossimo episodio un saluto a tutti da G90 Gamer ciao a tutti ciao a tutti